buongiorno benvenuti o bentornati sul canale allora oggi è sabato io sono andata questa mattina a fare i primi esami delle varie visite che devo fare di controllo poi dopo gli esami del sangue sono andata al mercato adesso vi faccio vedere che cosa ho preso pensavo di andare al mercato per risparmiare invece ho speso una cifra non indifferente in frutta e verdura devo un attimo calibrare questa cosa nell'ultimo periodo sto mi sto scrivendo tutte le spese che facciamo in un mese seguendo un po quello che è il diciamo il consiglio del canale spazio grigio non so se avete presente mi sto appuntando tutte le varie spese per cercare di capire su cosa posso migliorare su cosa si può magari anche cambiare trovare dove poter risparmiare e la spesa è uno dei diciamo dei grandi gruppi di spese che si fanno dove secondo me posso posso migliorare molto non con quello che ho speso al mercato però devo anche capire un attimino bene come come muovermi adesso stavo lavando appunto la frutta e la verdura quindi vi faccio vedere che cosa ho preso poi dopo mi preparo il pranzo e nel pomeriggio ho un po di lavori da fare in casa vi farò vedere una ricetta che ho fatto per salvare il caffè che mi ha avanzato dal tiramisu vegano di cui vi parlerò dopo e sistemare un po in giro domani torno alla casa finalmente e vi faccio vedere l'aggiornamento dei vari lavori che sono che sono stati fatti e nel prossimo video quindi state all'occhio vi farò vedere realmente gli acquisti fatti finora per la casa perché siamo riusciti a fare la detrazione del 50 per cento al bricoman e abbiamo comprato le piastrelle i sanitari quindi nel prossimo video vi farò vedere questa cosa se riesco invece in questo progettiamo insieme la lavanderia ora bando alle ciance vi faccio vedere cosa ho preso al mercato ed eccoci qua finalmente ho trovato il songino sfuso quindi l'ho preso perché mi piace un sacco poi ho preso le carote con le erbette loro perché si possono mangiare e sono veramente buoni in alcune preparazioni le fragole lo so che non è ancora periodo mi sono fatta fregare dal palato e dalla voglia dalla tentazione e le ho prese poi ho preso un broccolo le coste il cavolo romano lo spinaccino questo è quello da fare in insalata che secondo me è molto buono e i mandarini ho preso quattro finocchi e gli asparagi per fare il risotto ok ragazzi ho finito di mettere a posto tutta la biancheria e ho finito anche di lavare tutte le verdure ho preparato la pasta per la pizza adesso vado a stendere l'ultima macchinata sistemo le cose negli armadi e poi vi lascio al video in cui vi faccio vedere le idee per la lavanderia sia come stile che come organizzazione e poi vi lascio all'app in prima in 2d e poi in 3d di come abbiamo intenzione di posizionare le cose nella lavanderia e dopo ancora vi farò vedere la torta al cioccolato e caffè che ho preparato ieri con degli avanzi di cose che mi rimanevano in casa una torta adatta a tutti secondo me è molto buona in più non si butta via niente quindi può mangiarla anche chi è intollerante al lattosio chi non può mangiare le uova insomma è una torta adatta a tutti e niente poi magari ci rivediamo stasera vi faccio vedere la pizza che ho preparato e poi ci salutiamo perché vi parlerò di che cosa vedremo domani in cascina quindi vado e ci vediamo dopo come sempre apriamo la nostra app di pinterest ho dedicato una parte alla lavanderia partiamo dallo stile per lo stile in questo caso non è proprio preciso 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 perché ho diverse idee a partire ad esempio da questa molto semplice molto lineare adatta a uno spazio piccolo passando a questa che vedete ha già dei colori differenti dove mi piace però un po l'organizzazione questi mobili per andare poi a quello che è proprio lo stile che piace a me quindi questi queste lavanderie che sembrano quasi delle cucine talmente sono ben strutturate guardate questa com'è bella con tutta questa zona con questi armadietti sospesi insomma è quasi talmente bella che sembra finta a dir la verità questa che secondo me è bellissima mi piacerebbe almeno in lavanderia mettere il lavandino così ma non credo che ci riuscirò però mi piace anche questo tipo di lavandino perché secondo me per una lavanderia dovendo lavare cose sporche grosse secondo me si adatta molto bene andiamo a vedere adesso passato lo stile andiamo a vedere un po le idee salvaspazio cioè quelle idee che secondo me sono di riciclo e molto carine queste sono fatte con i pallet con proprio le le cassette di legno ci sono così oppure ci sono anche queste versioni bianche che sono molto carine perché le utilizzano sia in orizzontale che in verticale poi mi piace tanto questo tipo di organizzazione quindi utilizzando questi vasi di vetro dove dentro si vede bene che cosa che cosa viene inserito con le loro etichette per organizzare al meglio gli spazi e un'altra idea sono questi boccioni che ad esempio io ho comprato queste state perché erano in offerta da lidl quindi queste ad esempio li ho già e penso che li utilizzerò poi mi piace molto questa idea salvaspazio come è scarpiera ottima per riporre le scarpe apriamo l'app e il 2d allora come vedete abbiamo un ingresso dalla porta che non è centrata mentre invece è centrata la polla finestra è una finestra non è una porta finestra andiamo a vedere il 3d nel 3d vedete subito alla destra della porta una doccia doccia che in questo caso è angolare mentre la nostra sala rettangolare normale la lavatrice che non ho bene idea se è su questo lato o l'altro perché non ricordo gli attacchi dei mobili sospesi il lavandino con il suo mobile vide e vc mentre dall'altra parte avremo la possibilità di appendere per poter stendere mettere dei mobiletti mettere una scarpiera abbiamo comunque abbastanza spazio per potercela giocare la nostra idea è quella di avvicinarci alle idee che avete visto su pinterest allora ora che vi ho fatto vedere come abbiamo intenzione un po di mettere la lavanderia mi sono fermata per fare una merenda con questa tisana della yogi tea la moon salutation della yogi tea mi piacciono un sacco i tastellini perché hanno sempre qualche frase motivazionale comunque carina questa dice che l'intelligenza e intuizione sono due amiche e tra l'altro oltre alla tisana sto mangiando la torta che vi ho fatto vedere prima o vi farò vedere adesso non lo so comunque non so bene dove dove posizionare la clip nel frattempo sto cercando di capire come funziona questo adesso ve lo faccio vedere cioè il drone che ho regalato l'anno scorso a raffa perché perché mi piacerebbe fare delle riprese della cascina dall'alto e soprattutto perché mi piacerebbe farvi vedere come abbiamo intenzione anche di progettare in un futuro il terreno quindi dove mettere l'orto dove mettere gli animali dove creare lo spazio con il gazebo dove invece creare lo spazio dove posso lavorare io con i cani e quant'altro quindi mi piacerebbe fare delle riprese dall'alto finora sono riuscita a farlo schiantare qui in casa almeno dieci volte non so se per domani arriverà arriverà sano e ecco una cosa che volevo dirvi che abbiamo finito già da tempo di vedere uno di noi stamentendo su netflix abbiamo iniziato a vedere la giudice allora vi devono piacere i dramma coreani perché comunque hanno una caratterizzazione dei personaggi una mimica un'espressione facciale che se non si è abituati possono magari non non piacere però devo dire che questo è veramente tosto se vi piace un po il genere crime ma anche drama perché comunque parla di una situazione particolare dei giovani che commettono atti criminali eccetera ve lo consiglio perché comunque è veramente molto carino però niente era giusto perché volevo volevo dirvi questa cosa e niente adesso come vi ho detto prima finisco la mia merenda e ci vediamo la pizza ma prima della pizza vi lascio alla preparazione della torta a cioccolato e caffè ciò che vi faccio alla preparazione della torta a cioccolato a cioccolato e ciò che vi faccio di curare ciò che vi faccio che vi faccio ciò che vi faccio è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per quanto riguarda l'ortensia non ho potuto potarla come in teoria andava potata perché sono già in ritardo, quindi ho cercato di fare una pulizia. Adesso faccio una pausa, vado a mangiare dal mio nipotino, poi torno e vado avanti a pulire perché ovviamente va pulita anche tutta sotto. E poi dopo vi faccio vedere cosa è cambiato all'interno della casa, quali lavori sono stati fatti. Quindi buon appetito, ci vediamo dopo. Come vi dicevo, adesso con queste clip vi mostro i lavori che sono stati fatti nella casa, quindi un aggiornamento. Questi sono i tubi messi dagli idraulici, sono stati fatti e messi in tutta la casa al piano sotto e anche le predisposizioni per i piani superiori. Qui è stata aperta anche sempre dalla ditta una nuova finestra e vi faccio vedere soprattutto la reale misura di quella che è la lavanderia che abbiamo progettato proprio in questo video. Ho dato una sistemata anche intorno al pozzo perché c'era tantissima salvia secca, comunque non messa bene, malata. Dicono di non metterla vicino al rosmarino, noi abbiamo questo rosmarino così grande, però l'abbiamo trovata così e devo dire che fino a quest'autunno ha dato tantissimo come salvia. Adesso un po' meno, vediamo un attimino come andrà dopo averla potata e poi sta nascendo questo fiore che io sinceramente non mi ricordo di aver piantato. Qualcuno di voi lo riconosce, sa che tipo di fiore è, però è talmente diverso da tutti gli altri che può darsi che l'abbia piantato e non mi ricordo. Se lo riconoscete scrivetemelo nei commenti. Sono le 5.38, noi stiamo portando gli sfalci in campagna dove ci hanno detto di poter portare l'erba che tagliamo, le piante che potiamo. Mi sono messa qui perché c'è questa pianta che fa dei fiori stupendi per più che altro salutarvi perché la giornata sta giungendo al termine. Quindi io spero che questo video vi abbia fatto compagnia, vi sia piaciuto. Come sempre potete mettere un like, commentare, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!